Io sono Maria Luisa, lei è Enrica, questa è la mamma di Enrica, la signora Bruna, quasi 90enne e vi presentiamo i balanzoni di San Giacomo di Casaglia. E' una pasta antica, però noi l'abbiamo rielaborata qua in questo paese da circa 5 anni. First, Maria Luisa and Enrica make a ragù using minced pork, a sofrito of carrot, onion and celery, sauteed in olive oil. Next, they add a splash of white wine, some tomato passata and concentrate. Pasta chiudere, mescola, e poi diciamo che è giù. E dopo si cuoce ad agio. Enrica leaves the mixture to fry gently. Next, they make the filling with three different cuts of pork. Battuto! The village butcher says it's his secret selection. Il dialetto ferrarese è il battuto. E su un chilo di carne cotta, ne mettiamo due etti e mezzo di paniglia, quindi saporito. Maria Luisa adds plenty of parmigiano cheese. It needs to be mixed in very well with the pork. Enrica makes a dough with one egg for every 100 grams of zero zero flour and adds a very modern tablespoon of spinach powder. E dipende da quanto verde vuoi che sia la pasta. Se è un verde molto carico, però più è carico e più senti il verde green dello spinaccio. Quindi non tanto, non tanto. Questo time-saving swap with fresh spinach è grazie al festival di balanzoni che organizzano ogni anno quando mille di balanzoni sono mangiati. 90-year-old Bruna rolls out the dough. Bruna, quando hai iniziato a fare la pasta? Buongiorno, quando hai iniziato a fare la pasta? Buongiorno. She then slices it into 7 centimetre strips. She places them on top of each other and cuts squares. She places a grape-sized piece of filling in the middle and folds the pasta to make a triangle. Bruna seals the edges, tips up the corner furthest from her and brings the other two corners around her finger and presses them together. Marie-Louisa and Enrica help. This is a team activity. Enrica makes the white sauce with 500 ml of whole milk, 50 grams of flour and 50 grams of butter. She scrapes in plenty of nutmeg. The balanzoni need to cook for about 6 minutes. The best way to see if they are done is to try them. Enrica dresses the pasta with the ragu, followed by the white sauce. The balanzoni are given a final sprinkling of parmigiano. And that's it. Ecco pronti il balanzoni di San Giacomo di Cresaglia. Aspizziamo. Buon appetito. Buon appetito. Click on the subscribe button for regular helpings of pasta grannies.